Salve a tutti gente e bentornati in questo nuovo video per Marvel Spider-Man 2. Perché avrete sicuramente letto il titolo, quindi direi di partire subito. Ovviamente ragazzi ci tengo a specificare una cosa importantissima, ovvero che la durata del gioco che andrò a comunicarvi si riferisce unicamente alla trama del gioco. Ora per quanto riguarda la fonte da cui ho ricevuto questa esclusiva, potete star tranquilli perché si tratta di una persona che ha lavorato al gioco, quindi ovviamente sa di cosa sta parlando. Chiaramente non posso fare nomi per motivi abbastanza ovvi, tuttavia ragazzi potete fidarvi di me se vi sto dicendo che la fonte è affidabile al 100%, proprio perché ha lavorato sul gioco stesso. Ora detto questo ragazzi, tenete anche conto ovviamente che i numeri che andrò a dirvi sono variabili da giocatore a giocatore. Quando si parla infatti del tempo necessario per finire un videogioco, e in questo caso nello specifico di completare la trama stessa, molti fattori influenzano questa variabile. Le ore di gioco infatti variano solitamente parecchio, proprio per questo motivo, perché si tratta sempre di solito di un delta, che comprende il minimo e anche il massimo tra virgolette, delle ore che una persona può impiegarci per giocare la trama. Chiaramente è massimo tra virgolette, semplicemente perché uno può rallentare all'infinito un certo tipo di sessioni di gaming. Tuttavia ovviamente quando si parla di questi dati, si considerano i valori nella norma. Detto questo quindi posso dire che mi è stato confermato, che le ore di gioco per la trama di Marvel Spider-Man 2, si aggirano intorno alle 15-20 ore di gioco, come minimo per completare la trama. Riportando quello che mi è stato detto infatti, Marvel Spider-Man 2 dovrebbe essere un filo più lungo di Marvel Spider-Man, che praticamente aveva appunto 15-20 ore di game. Ovviamente ragazzi sempre parlando di trama. E se chiedete a me ragazzi sono onestamente soddisfatto per la durata, perché è letteralmente ciò che mi aspettavo da questo capitolo. Un qualcosa comunque sulla falsa riga di Marvel Spider-Man, che a mio avviso era riuscito a portarci l'esperienza perfetta di gioco, con quel numero di ore. Si è parlato più volte di un Marvel Spider-Man 2 che sarebbe stato Massive, quindi tradotto in italiano massiccio. Tuttavia onestamente non ho mai pensato che questo fosse riferito alle ore di gioco della trama, ma l'ho sempre considerata di fatto come una cosa legata più al gameplay, alla mappa stessa e alle nuove meccaniche di gioco. Che come avete visto sono nettamente migliorate rispetto ai capitoli precedenti. Detto ciò ragazzi io comunque sono super curioso di sapere cosa ne pensate voi di questa cosa. Se secondo voi le 20 ore basteranno per regalarci l'esperienza di cui abbiamo bisogno, oppure se pensate che siano troppo poche. Detto questo ragazzi vi ringrazio tantissimo anche oggi di essere stati qui con me, e noi come al solito ci vediamo alla prossima.